Ciao a tutti! In questo breve video parleremo di Sergio Corazzini. Prima di tutto mettiamo però in evidenza le parole chiave che ci aiutano a comprendere la poetica dell'autore. Nella poetica di Corazzini e in generale nelle sue poesie ci sono spesso numerosi riferimenti alla sfera religiosa. Corazzini nasce a Roma nel 1886. La sua vita è una vita piuttosto breve e triste. A causa di numerose difficoltà economiche è costretto ad abbandonare il liceo e ad iniziare a lavorare in una compagnia di assicurazione. Gravemente malato di tubercolosi, il poeta si spegne nel 1907 sempre a Roma. Nella sua brevissima vita Corazzini riesce a pubblicare tre raccolte poetiche. L'amaro calice, il piccolo libro inutile, il libro per la sera della domenica. Una vita fatta di sofferenza e di malattia. Questi due elementi si ripercuotono all'interno della poesia di Corazzini, una poesia che esprime un profondo disagio esistenziale, che non si traduce più in quello che è l'atteggiamento di rivolta che era tipico per esempio dei poeti maledetti, ma sfocia piuttosto in quella che è una rievocazione malinconica e talvolta dolce delle cose passate, delle cose tristi, del passato e dell'infanzia. Tra le tre raccolte poetiche di Corazzini è importante ricordare piccolo libro inutile. Già a partire dal titolo capiamo come l'autore vada a considerare la poesia e l'arte all'interno della società moderna. Partiamo da questo presupposto. Piccolo libro inutile è un libro che comprende alcune liriche di Corazzini e alcuni testi di un altro autore. Il fatto che questo libro sia inutile allude proprio al fatto dell'inutilità della poesia all'interno della società moderna. La poesia ha infatti perso la sua sacralità. È inutile perché gettata all'interno di una società consumistica non può essere apprezzata. Perché? Perché l'arte nella società moderna altro non è che una merce. E appunto perché l'arte è una merce, gli autori scrivono nella quarta di copertina che non hanno osato dichiarare il prezzo di questo libro inutile perché immaginandolo tale hanno pensato che nessuno avrebbe mai voluto comprarlo. La raccolta poetica quindi è espressione di quella che è la crisi dell'intellettuale all'interno della società. Un poeta che non riesce a trovare più il proprio posto. Un poeta che mette in discussione il valore stesso della poesia. Il poeta non è più portatore di messaggi eccezionali, non è colui che riesce a riportare alla luce la verità delle cose, quella che è l'essenza profonda delle cose. Ma è un poeta consapevole della perdita del suo ruolo sociale. Per questo un poeta come Corazzini sostituisce alla figura del poeta Vate, alla figura del poeta Veggente, l'immagine del poeta fanciullo. Del fanciullo che piange e che vuole morire. Vediamo adesso la poesia desolazione di un povero poeta sentimentale. La poesia di apertura della raccolta piccolo libro inutile. Questa lirica sintetizza in maniera proprio esemplare quella che è la poetica di Corazzini e per certi versi va anche un po' a mettere in evidenza quelli che sono degli aspetti più generali della sensibilità decadente. Ora non leggeremo tutta la poesia ma andremo semplicemente a mettere in evidenza i versi più importanti. Partiamo dall'inizio. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. La poesia si apre con una domanda ad un tu immaginario, un generico interlocutore che non sappiamo chi sia e da questa domanda sostanzialmente Corazzini inizia a riflettere su quella che è la condizione del poeta all'interno della società. Innanzitutto, io non sono un poeta corrisponde a voler negare quello che è il suo ruolo all'interno della società. Corazzini è un semplice fanciullo che piange attraverso le sue lacrime, quelle lacrime che offre al silenzio nel verso successivo, il poeta riesce a dare voce al dolore degli uomini. Se il poeta non vuole essere definito tale, vuol dire anche che il poeta rifiuta in generale la poesia tradizionale, cioè quella poesia magniloquente, quella poesia dannunziana. Scrive infatti Corazzini nell'ultima strofa, dai versi 49 in poi, non sono dunque un poeta, io so che per esser detto poeta conviene vivere ben altra vita. Di qui, cioè qui scusate, troviamo che cosa? La rinuncia alla grande poesia. Corazzini dice non sono non sono un poeta, ma conviene, ma per essere chiamato poeta bisogna proprio vivere un'altra vita. La poesia quindi non è più la poesia che diventa un'esaltazione della bellezza, che diventa espressione di una verità che può essere assoluta, ma è una poesia che dà voce all'uomo, all'uomo comune, a quei sentimenti che sono comuni a tutta l'umanità e che non hanno nulla di eccezionale. Infatti, Corazzini dice le mie tristezze sono povere tristezze comuni, le mie gioie furono semplici, semplici così che se io dovessi confessarle a te arrossirei. Corazzini racconterà quei sentimenti dell'uomo comune che si discostano dalle imprese superomistiche d'annunziane e che sono sentimenti che solo a parlarne fanno sì che il poeta provi imbarazzo. A questa immagine di questo poeta fanciullo che vi ricordo non è il fanciullino pascoliano. Perché? Perché il fanciullino pascoliano abbracciava quella che era una funzione, una dimensione conoscitiva dell'esistenza. Questo fanciullo che invece troviamo in Corazzini è un fanciullo smarrito, un fanciullo che soffre, che piange, un fanciullo che avverte quel senso di morte che è sempre più vicina e che porta a concepire di fatto la poesia quanto la vita come qualcosa di inutile. Dice Corazzini, io muoio un poco ogni giorno, vedi come le cose. C'è il tema di questa vita che scorre, questa lenta morte che porta l'uomo ad avvicinarsi poi al passo, insomma, definitivo, a quella morte che poi lo allontanerà per sempre dagli uomini. E a questo senso di morte si aggiunge il senso della malattia. Io sono veramente malato e muoio un poco ogni giorno. Quindi il tema della malattia è il tema della morte. Un tema che ha a che fare con un malessere esistenziale profondo che però non è ancora traducibile con una profonda consapevolezza filosofica come quella che assumerà questo sentimento all'interno del male di vivere leopardiano, scusate, di montale e non è neanche una, diciamo così, un profondo senso di infelicità come quello che trovavamo all'interno delle poesie di leopardi. Quella di Corazzini è una malinconia sottile, una stanchezza, una stanchezza esistenziale che porta l'uomo a sentirsi, in un certo senso, rassegnato. Rassegnato, dimenticato da tutti, in preda a questa sorta di tristezza. Corazzini si trova infatti a sgranare un rosario di tristezza. Attraverso questa analogia molto forte che è tipica della poesia moderna, Corazzini associa al rosario, che è un oggetto devozionale, il fatto che un rosario sia fatto di grani, ad ogni grano corrisponde una preghiera, ma il poeta al posto di dire una preghiera per ogni grano è come se ripercorresse lacrima per lacrima, quindi grano per grano, la tristezza che porta nel cuore. Tutta la poesia allora assume un'ottica che sembra quella di essere una dolente preghiera, quasi una preghiera che assume un tono cantilenante, con una lingua piuttosto semplice, una dolente preghiera che diventa proprio il simbolo del disagio esistenziale, che si esprime attraverso questo fanciullo che diventa un'immagine regressiva dell'umanità intera, questo fanciullo che sembra da un lato lamentarsi e dall'altro sembra quasi essere compiaciuto di questa condizione malinconica. Questa malinconia sembra tra l'altro trovare una parziale consolazione, un parziale conforto in questa preghiera dolente, in questo sentimento religioso che viene visto forse come una possibile soluzione a quello che è il mistero della vita. Il motivo religioso si completa quando Corazzini dice io mi comunico del silenzio quotidianamente come Gesù, oppure dice ancora io questa notte ho dormito con le mani in croce. Che significato hanno queste due espressioni? Il poeta è come se si nutrisse di che cosa? Sempre attraverso una serie di analogie. Si nutrisse di cosa? Di quel silenzio, di quel silenzio che si oppone alla parola dannunziana e sembra però identificarsi con Cristo dopo quella che è una notte passata, in una solitudine che appare piuttosto dolorosa, ma allo stesso tempo è umiliato, è quasi crocifisso, dice che ha dormito con queste braccia messe in croce, ma allo stesso tempo questo accostare il poeta Cristo non fa sì che poi il poeta riesca in qualche maniera ad espiare la sua sofferenza. E quindi che cosa rimane? Rimane semplicemente questo desiderio di morte, questo senso di stanchezza perenne, questa inerzia. Il poeta nel verso 15 dice che è rassegnato come uno specchio. Lo specchio che cosa fa? Lo specchio non fa altro che riflettere, riflettere l'immagine. E così, sempre per, attraverso una similitudine, quindi attraverso la figura retorica, è come se Corazzini guardasse se stesso allo specchio, senza partecipare attivamente alla propria vita. E in un certo senso questa inerzia anticipa un po' quelle che sono le figure tipiche della letteratura del primo novecento, soprattutto figure come quelle dell'inetto sveviano contemporaneo a Corazzini. Questo amo che è inetto e malato.